Nell'anno della pandemia, in provincia dell'Aquila, ben 148 attività hanno chiuso i battenti. Fipe e Confcommercio ha condotto uno studio che ha fatto emergere che la categoria più colpita è quella della ristorazione. I numeri parlano chiaro. A fronte di 72 nuove attività che si sono iscritte, ben 148 hanno chiuso, con un saldo negativo di ben 76 attività scomparse dalla realtà produttiva. Effetto della pandemia, secondo Fipe e Confcommercio e il suo presidente Daniele Stratta, ma anche di misure per loro troppo penalizzanti. Per Stratta ci sono state molte scelte sbagliate. La categoria delle pizzerie e dei ristoranti, pub e bar è stata la più colpita dalla scuore. La provincia dell'Aquila ha il saldo negativo simile a quello di Teramo, ma più basso rispetto a Chieti e Pescara. Bar e ristoranti hanno sofferto di più rispetto ad altre attività, con una decrescita di ben 76 aziende. Lo studio di Fipe e Confcommercio ha analizzato i dati tra la prima e la seconda ondata della pandemia, per cui ci potrebbero, ma si spera di no, essere nel 2021 altri effetti negativi che ora ancora non si vedono. Con l'estate qualcosa si potrà recuperare, sperano tutti gli addetti ai lavori, anche con le possibilità dati dal comune rispetto ai dehors, ad esempio, che in città sono molto numerosi per consentire le attività all'aperto. Le vie della Movida e i ristoranti la mattina riposano, però i dati che arrivano dallo studio sono molto sconfortanti per quel che riguarda le perdite. Ecco, in città vediamo un proliferare di dehors, tante cose che il comune ha consentito per cercare di andare incontro agli esercenti. La speranza è che quest'estate si riesca almeno a recuperare qualcosa in sicurezza e rispettando le regole. In questi giorni, con l'alentamento delle restrizioni, con il passaggio del Giro d'Italia, con gli Open di tennis e gli internazionali di pattinaggio, la città ha visto le attività di ristorazione non solo lavorare bene, ma è ovvio che pochi giorni non possono compensare i danni provocati da un anno di chiusura e riaperture a singhiozzo. Grazie.